Le elezioni del 25 maggio sono importantissime per gli amministratori locali, per i nuovi sindaci e sono importanti anche per le protezioni europee. Abbiamo bisogno di un'Europa diversa, di un'Europa dei cittadini, non solo dei banchieri e non solo dei burocchi europei come lo hanno ridotto negli ultimi dieci anni di professore Barroso e per far questo serve un voto al Partito Democratico che è l'unica forza italiana che può dare sostegno all'Europa e che può in qualche maniera rilanciare il sogno europeo e cambiare quelle cose dell'Europa che ci piacciono. In Europa serve esserci, serve andarsi, serve tentare di cambiare anche per dare una speranza al nostro paese e proseguire in Europa quello che sta succedendo in Italia, un forte cambiamento a livello nazionale. È evidente che questo serve anche a avere rappresentanti che possono con il territorio, a partire da una realtà bella e portanto di Canciano, attivare le risorse necessarie per quei fondi strutturali europei che noi sfruttiamo poco e spesso male e che invece sono essenziali per il rilancio dell'economia locale e soprattutto dei territori e delle potenzialità che in realtà come questo di Canciano hanno. Grazie.